Con Michelin Trek Connect, primo pneumatico connesso al mondo per l'utilizzo in circuito, è come avere un tecnico di pista Michelin a fianco che offre consigli su temperature e pressioni dei pneumatici in modo da migliorare l'esperienza di guida in pista. Michelin Trek Connect assiste il pilota prima, durante e dopo la sessione di guida. Durante Michelin Trek Connect indica in tempo reale i valori di pressione e di temperatura a una centralina inserita nella macchina. Questa centralina si interfaccia con l'applicazione sullo smartphone rendendo chiaramente visibili i valori e facilmente comprensibili dal pilota. Dà anche il tempo sul giro e se giro lo smartphone di 90 gradi mi darà anche le indicazioni sulla tendenza sovrasterzante o sottosterzante della vettura in quel preciso momento. Dopo fornisce indicazioni sull'eventuale correzione delle pressioni nel caso che il pilota continui la sessione e torni in pista, oppure archivi e tutti i dati che sono facilmente consultabili in qualsiasi momento. Michelin Trek Connect è disponibile da aprile di quest'anno in alcuni paesi europei e lo sarà in Italia a partire da gennaio 2019. Come funziona Michelin Trek Connect? Molto semplice, quattro sensori brevettati da Michelin inseriti all'interno della copertura in modo da fornire i dati più precisi possibile rispetto ai sensori che normalmente sono posizionati alla base della valvola. Questi quattro sensori inviano i dati a una centralina ricevente dentro il veicolo la quale dialoga con l'applicazione sullo smartphone per fornire i dati necessari al pilota.